amici cacciatori e tiratori ben trovati siamo a eos 2023 l'evento delle nostre passioni siamo all'interno dello stand tfc che è distributore come sappiamo di fire e fossari in questo caso sono con moira facchini moira abbiamo qui uno degli esemplari della nuova linea dedicata specificatamente al tiro ai professionisti del tiro quindi gamma fossari in questo caso un crx 9 dedicato al trap quali sono le caratteristiche principali di questi nuovi fucile un marchio fossari creato appositamente per i tiratori sia neofiti e professionisti un insieme di caratteristiche che donano a questo fucile la possibilità di arrivare ad alte prestazioni un'altra tecnologia partiamo dalla bascula integrata confinamento finimento in ceracote dove c'è la piastrina di culata intercambiabile un altro dettaglio importantissimo appunto è la bascula è il meccanismo removibile tramite questo pulsante in modo da poterlo sostituire qualora ci presentassero dei piccoli problemi durante l'attività sul campo questa è la versione trap ovviamente esistono anche altre versioni in questo caso abbiamo l'astina trap legni di qualità di qualità oltre a dire che sono di noce europeo possono essere fatti anche i calci regolabili con monte carlo e anche super regolabili quindi adattabili alle misure delle tirature praticamente una gamma di sovrapposti in cui tutte le parti sottoposte a maggiore usura e quindi a maggior stress dovuto allo sparo all'utilizzo da parte dei professionisti sono poi intercambiati assolutamente sì cosa rilevante assolutamente è anche il sistema boss di questo fucile e ovviamente è un dettaglio di particolare importanza considerate che è possibile avere sulla versione sporting a oltre agli strozzatori intercambiabili con le otto versioni anche la possibilità di avere le bindelle che partiamo dalla bindella piatta a quella rialzata e anche a quella regolabile dettagli ripeto veramente importanti per coloro che praticano questa disciplina ci sono poi anche il sistema tecnologia t-rex che permette di l'aggiustaggio della croce durante l'utilizzo per il ripristino del tiraggio della croce esattamente altro dettaglio ovviamente anche il grilletto regolabile che con poco può essere adattato al dettaglio non da poco perché i tiratori sappiamo quanto siano poi esigenti esigenti ma nel giusto modo esatto insomma dei fucili per tutti dai neofiti ai professionisti